oggi ho giocato con un amico 3 ore e 20 a Gears un'unica partita abbiamo fatto un orde a 40 ondate le orde si fanno 5 nel tempo di fare 2-3 round che sono usciti tutti e siamo ripassi da su a facile siamo arrivati fino alla quarantesima però ogni 10 c'è un boss e alla quarantesima il boss fa il danno doppio c'è la vita doppia e non mi ricordo che altro c'è doppio quindi ci siamo detti basta anche perchè era neotto è praticamente il tempo dei decennati ho preso pure la red de bull ah ieri sera ho preso tutti i sorti mi sono potenziato mi sono potenziato al massimo che sarebbe al terzo livello l'abilità quella per far più danno quando spari da cavallo che costa 500 dollari beh adesso attualmente ho 126 dollari teoricamente adesso faccio tanto tanto male che aria tira da te niente rossi sto pescando non lo so però non mi sembra che c'è se non ci stanno solo su radar ma vado a non rischio come vado ah già io l'ho fatta una bella come dice ho veduto parecchia roba comunque il fatto che ho speso 500 mi sono rifiutato un po' eh ma i piumi valgo non so cioè ho preso piume dei più disparati uccelli e ci fai parecchi soldi eh quella ha aggiunto la carne pure la carne ci sono vari come si dice vari vari tipi a questo devo frego su ah questo devo frego su beh stava lì fermo fermo ho fatto 7 dollari con con un colpo a posto ah se vuoi ce l'ho ah se vuoi ce l'ho allora vuoi colpare lei non mi compra il cavallo non mi compra le abilità non mi compra niente ma sì Grazie a tutti. 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 Oh, ma che c'hanno che non abboccano? Perché non ha una bocca non più? Grazie a tutti. E' un'altra esca. Grazie a tutti. Oh, ma... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, ma... 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 E lei mi sta... E lei mi sta riempendo la sacca di pesci... E lei mi sta riempendo la sacca di pesci? Oh, ma... Oh, ma... E lei mi sta riempendo la sacca di pesci? Ah, ecco... No, non te sento... E lei mi sta riempendo... Un momento Prova a rifare la chat tu. Oh, ma... Oh, ma... Oh, ma... Oh, ma... Oh, ma... Tutt'uff wave. E lei mi sta riempendo... Oh, ma... Dì che? Ma? Tu però mi senti? Io non ti sento ancora? No Tu senti a me perché mi scrivi Io però non ti sento Io non ti sento? Io non ti sento ancora? Allora io continuo a pescar Questa è che non mi viene a rompire Questa è la scada Questa è la scada? 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Allora, se stai barlando non ti sento ancora. Aspetta, fammi una chiamata. 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 Grazie a tutti 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 Iron Grazie a tutti 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 Ammirato Ammirato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti